Oggi è una giornata perfetta per correre, il sole splende e le temperature sono miti La maggior parte dei piloti ha scelto senza esitazioni di montare gomme medie sia davanti che dietro Salve Popofiere e Popofiere, bentornati in questo nuovo video In questo nuovo video siamo su MotoGP24, siamo in India a Bud Nelle prove di breve le qualifiche sono andate molto bene, parto in terza posizione, ebbene sì, in prima fila oggi si parte E niente, vediamo un po' come andrà questa gara, pista difficile, Bud, perché è una pista difficile Come ha detto il buon Guido Mid, la maggior parte dei piloti ha deciso di montare le gomme, la doppia media E io vado in doppia media giustamente, quindi carica assetto, Bud 2, carica assetto, sì Aspetto manuale 5, 5, 3, 4 Perfetto, torno indietro, torno indietro Siamo pronti per lo spegnimento dei semafori qui dal circuito di Bud, ancora pochi istanti e daremo il via alla gara Ci siamo, prima dentro, gas a martello e... Via via via, partiti II E give via via, partite Il generale Caro 51 si scrive in... quattro giri E ci va Retrino Casaparte Andiamo duck Passapan Ok, ok. un po di merda taglio puro va bene ci sta l'avvertimento te lo puoi inviare eh no così però no l'avvertimento si ma la caduta no l'avvertimento taglio curva va bene la caduta no perciacare oi 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 ok 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 Ok, sta giù. Su secondo giro. Questa è lì è troppo largo e non la 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per l'ultimo giro... Per l'ultimo giro... Per l'ultimo giro... Per l'ultimo giro... Ok... Per l'ultimo giro... 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 Casamatello Grazie a tutti Grazie a tutti Bruna potenzione c'è Bruna potenzione c'è Bruna potenzione c'è Bruna potenzione c'è Bruna potenzione va a vincere Primo posto signori Abbad Andiamo a vedere insieme la classifica finale Della gara moto 3 I piloti stanno rientrando ai box E tra poco ci collegheremo con loro Per le consuete interviste del 281 punti Ci sta 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 Telecamere nel parco chiuso Dal vincitore della gara Che sta giustamente festeggiando con i suoi Oggi ha saputo imporre un rischio